Buon Natale, Roberto. Buon Natale, Marco. Senti, io ho visto uscire Daniela, paraccia, piangeva. Che è successo? Con Daniela ho troncato. Come hai troncato? E perché? Ma che sei matto? Scusa, c'hai una segretaria che è una figa pazzesca e tronchi. Ma Marco, io c'ho quasi 60 anni. Daniela ha 29, che non so come mi chiamano qua dentro. Papi. Carino? Ma piattosto, non si può, mi sento ridicolo. Da oggi l'avvocato Covelli cambia vita. Basta, segretario e scappatello. Da oggi, giuro, l'unica donna della mia vita sarà mia moglie. La vora disgraziata di Fiano Romano, che l'ho fatta tanto soffrire. E non sono verta. Tu con un'unica donna? No. Mi occuperò anche delle mie figlie. Belle di papà. Di Boris i cane, della casa. Pensa che palle. Pensa che palle. A proposito. Tieni, questo è il mio regalo di Natale. Allora, sai, fa sul serio. La mitica argentina dell'avvocato Covelli. La guida Michelin della gnocca. Detto c'è tutto. Nomi, misure e specialità della casa. Adesso è tuo, tanto a me. Non serve più. Oh, io sto a partire per Londra. C'è sta pure a sezione esteri. Sì. Alla fine, guarda bene. Vicino all'asterisco. Bucione, United Kingdom. E prima dove si va quest'anno. Mia moglie. Eccolo qua. Regno Unito. Jennifer, Kate. Melody. Una giamaicana che è che ha petta cavalla sudata. È particolare, ma molto piacevole. Dimmi, tesoro. Ciao. Qui a Cortina è tutto bene. Sono all'enoteca con Mirna e Boris. Tu sei partito, Roberto? No, non ho ancora. C'è avuto da far studio. Vabbè, comunque fai con calma. Intanto le ragazze stasera rimangono a dormire a Firenze dalla nonna. La vigilia la passano lì. Arrivano direttamente domani. Va bene. Ciao, amore. Ciao. Buongiorno, è tornato presto? Sì. Scusi, guardavo un po' di televisione. Eh, brava. E la signora dov'è? La signora non c'è. Anno nuovo, vita nuova. Allora, a Capodanno la roba vecchia si butta via. I coglioni. Ma che sei? Hannibal e la Cedale. Scusi, è bugato, è il mio fidanzato? Mi dispiace, la Cedale non volevo. No, non si preoccupi. L'ho fatto venire perché non volevo passare il Capodanno da sola. Ma tu non c'avevi quei errori da Manila? Anno nuovo, vita nuova. Dall'Oriente alla Patania, si è entrata in Guadalica. Alla cedale, e basta, ma che ci arpongono le mutante? È un'ora che sta a fare sto rimpasto, fattano a casa, va. Devi vedere, scusi tanto. Sì, ma poi ce l'avevo qui, caro. Questo lo porta al Pakistano che c'è il guardatore di Nicola.